ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su fifa 18 iniziamo ottobre come abbiamo visto in precedenza sul finale del precedente video ci aspettano a regola cinque partite leggo a regola perché qua in inghilterra insomma magari ogni tanto si aggiunge se c'è che se non chiaramente ne fa sempre parte perché magari non so come può essere andato fuori su ogni tanto vengono aggiunte a caso partite di coppa di lega come può essere l'fl cup che è la carabao l'fi cup vabbè comunque momentaneamente facciamo cinque partite non lo so poi sono in orienti io magari mi dice no guarda simo in realtà le partite semmai dovestero venire fuori vengono fuori a dicembre a gennaio a febbraio vabbè io siccome non ho mai sinceramente capito al cento per cento il funzionamento che hanno in inghilterra queste coppe non ho ancora a capire comunque come si basano il calendario di fifa che a volte ti abitano otto partite in tre giorni per lì quindi ora d'ora in poi mi verrà nella spontanea dirò che al momento il mese a tot partite da fare vabbè manda alle ciance se no si va troppo sulle lunghe iniziamo giochiamo in casa contro lo swansea e la simulerò voglio farvi vedere una cosa che ho visto in precedenza nei precedenti video scusate gioco di parole al sesto posto che si via cavano neri c'è un certo vardi quel non so se è quel vardi o un altro vardi resta il fatto che giocano lo swansea e eventualmente ce lo ritroveremo subito contro guardiamo speriamo non sia quel vardi perché sennò è veramente straforti e uno forte si in questa categoria intanto comunque gioca un attacco già qualcosa gomes mesa 1 1 dopo 12 minuti uno forte questa categoria diciamo può essere un cliente scomodo via per tutte le avversarie vabbè comunque tanto ha preso il giallo buono vai preso il rosso ciao vai di se siete vabbè indipendentemente da tutto nonostante già due anni in 10 si è preso con 2 a 1 montero 3 a 1 vai niente è finita così prima non mi sono soffermato sul parlare della sconfitta ma in realtà questo perché non ci pensavo sinceramente in realtà questo visto la classifica è stata la nostra prima sconfitta del campeonato e la cosa che diciamo mi ha fatto render conto di 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 deve essere un po no più svela nelle cose e il fatto che io ho simulato una partita che comunque riguardava un avversario momentaneamente importante ma non tanto per la qualità ma ben sempre la classifica perché lo swansea non ci ha fatto caso cioè io mi ero focalizzato solamente sulla seconda che prima era il Brighton è prima perché siamo a secondi noi si sono invertiti i ruoli le posizioni lo Swansea era comunque lì faceva parte a regola delle prime 6 a regola non lo sono sicuro guardando il tutto probabilmente forse forse calcolando già il dubbio Vardy poi calcolando comunque pur sempre lo Swansea che come è già successo in vita precedente con tipo Norwich è una delle squadre che fanno su e giù su e giù su e giù o anzi più che altri rimangano su fra Premier e Champions per forse era meglio che la giocassi anche se giocavamo in casa quindi niente un po' dormicchiato e un po' mi dispiace percorrere che poi addirittura abbiamo perso in casa 3 a 1 prima sconfitta stagionale no io cosa sto per fare no 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 questo lo voglio già ho sbagliato ora ho preso il Vita a simulare automaticamente no comunque seconda partita giochiamo contro il Mildesbrug appunto in trasferta questa invece me la giò e niente speriamo possa andare in maniera diversa rispetto a Primo per quanto riguarda almeno il risultato ok così per la formazione si vai iniziamo attenzione occhio indicesimo anzi sedicesimo primo tiro del Mildesbrugge in porta go 1 a 0 loro attenzione mamma mia meno male c'è stato lui davanti oh ma non è mai finita ma si spazza a modina per favore se si riprende ok no anzi a modina con calma con calma ai Brereton Brereton subito con l'inizio del secondo tempo riequilibra la partita oh ma no Karate Kid Brereton che sia la bandierina bene dai guardiamo di ripartare completamente il risultato bello Maulita di velocità buttala dentro no attenzione Van Bergen io sono stato zitto perché ero concentrato tutto da solo ha fatto di stra bene in realtà molto egoista però ho fatto bene quello che voleva fa peccato si è perso nella conclusione vai Sciccio Brereton ancora Brereton ci porta in vantaggio e fa ancora la bandierina e ma ce l'hai con lei e andiamo risultato ribaltato e attenzione perché è vero che siamo alla fine ma manca sempre tanto se si può vedere così ma Ivan Bergen guarda Gomez lo fa dalla subito a Gomez l'ha dato a Molida che poi l'ha dato a Gomez e insomma finisce così buono meno male vai andata bene stavolta si dopo un inizio brutto perché abbiamo iniziato il video del mese con una sconfitta siamo riusciti a riprenderci un po' con questa vittoria comunque abbastanza emozionante cioè nel senso via Bellina perché si perdeva e poi insomma andate a vinci bene terza partita prima di iniziare stavo dando un'occhiata alla classifica e siamo tornati primi grazie alla vittoria di prima e niente addirittura il Preston e il Brighton il Brighton addirittura è del terzo ma è da primo hanno una partita in più rispetto a noi però il Preston ha pari punti o noi il Brighton invece addirittura è a meno due quindi con questa vittoria per quanto riguarda il terzo posto soprattutto ma anche il secondo possiamo se si dovessimo vincere all'allungare quindi bene cerchiamo di sfruttare bene questa occasione dico bene perché non sta tutta la classifica con una vittoria solo siamo un pochino tra virgolette o quanto ci riguarda rivoluzionato in maniera positiva comunque subito Hitter e Brereton dopo un minuto è successo di tutto gol di Hitter e la munizione di Brereton però vabbè l'importante è sia in vantaggio Van Bergen 2 a 0 al 56esimo è così là che prima mi sono anche scordato di farlo entrare e finisce così chest e field 2 cardiff ovo 0 buono dopo soli tre giorni torniamo a giocare giochiamo in trasferta e si non la gioco guardiamo un po' come andrà vediamo bene infatti come vedete lo volevo dire appunto la condizione dei giocatori non è ottimale perché appunto come ho detto prima dopo soli tre giorni siamo tornati a giocare e niente l'unica camera è venuta in mente ecco di mettersi là al posto di Malidech tanto sì là è salito al 71 via iniziamo no 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 non è uguale per un momento Fravart era lo stesso minuto se male male andava un po' si prendevano un po' dalla partita precedente la sbloccavano anche loro al 15esimo come aveva fatto in Midensburg prima Fravart sarebbe stato una vicinanza abbastanza brutta a partito line buona eh edwards buttala dentro dio buono peccato vabbè l'hai piazzata ma ancora buono no non è buono attenzione è stato furbo anche se era il 22 forse che ho fatto la sorta di velo vabbè tanto loro sul finale del primo tempo sbloccano la partita sì perché il sorte rivela appunto è serzato mi fa il passetto all'uomo non l'aspettavo non mi difesa nemmeno e si è chiuso non è zero eh Iduax ma che gol è partito da dietro al centro capo una scarsa di credo due o tre non ne so sicuro poi così da fuoriare una bomba che il portiere non riesce proprio a prendere da lì boom bello eh boia bello 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 sì 1 a 1 mamma mia svilare credo cosa ha levato lì però la difesa ragazzi cioè quando succede questo sì veramente personalmente non so come comportarmi cioè il compito è della mia difesa insomma diciamo la famosa intelligenza artificiale non mi fa niente mi fa passare l'uomo io non so come comportarmi tutte le volte in queste occasioni si soffre meccanica attenzione mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia che culo ci s'ha avuto ragazzi mamma mia a parte pareva di essere un flip perché rimbarzava tutte le parti la palla che culo però che patimento eh maledetta la miseria via meno male finisce sì ci portiamo a casa un punticino molto molto prezioso perché conquistato su campo a quanto pare veramente difficile o perlomeno di aver conquistato una partita che non si era messa per niente bene guardate anche le statistiche questa volta va detto siamo stati tanto fortunati a volte spesso succede l'opposto stavolta invece meno male no cioè l'opposto succede che la squadra avversaria è fortunata ma riesce a portarsi a casa qualcosa stavolta siamo stati noi belli graziati eh ultima partita del mese come dico sempre di conseguenza anche del video Carabao Cup giochiamo contro il QPR vediamo un po' come va per ora abbiamo fatto Miraule in questa competizione che si è buttato fuori nel precedente video il West Ham squadra che a regola milita in Premier League o quantomeno lo fanno nella realtà guardiamo se riusciamo ad andare avanti ok Ibrae ritorna al quindicesimo 1 a 0 la sblocca mamma mia se guardo le altre squadre in basso nell'eventualità che dovessimo passare Arsenal Stoneville questi sono questi quarti e semifinali credo quarti credo io un bacotto quello ci fece già comunque in campionato comunque supplementari perché ha fatto quasi il 75esimo niente andiamo a fare i rigori vedo la verità un po' ci speravo eh cioè ci credevo nel passaggio del turno perché avevamo raggiunto comunque delle fasi importanti ho detto ma quasi quasi se stessero andando avanti vedendo i nomi chi c'era lì per Puarsena Manchester City ho detto ma quasi quasi se stessero andando avanti mi dispiace vuol dire che allora siamo veramente forti nel nostro piccolo insomma invece poi è andata così vabbè pace siamo arrivati il mese di novembre perché come ho detto prima con la partita precedente il mese di ottobre si conclude ancora cinque partite almeno per ora ormai io sì come ho detto inizio il video ve l'ho spiegato però tutto è riamperato e niente quindi anche vi vedremo un po' cosa simulare cosa giocare eccetera eccetera non mi sto a perdere in chiacchiere tanto fa lo sapete e niente per lasciarvi diamo un'occhiata alla classifica allora siamo sempre primi però a parte adesso cambiate un po' di squadre nella classifica vabbè noi siamo primi con treci partite giocate vabbè le partite giocate sono anche quell'altro comunque con 30 punti la seconda è lo Swansea magico Swansea con 28 poi c'è il Brighton a 27 poi il Preston a 27 con altri tanti punti poi il Brentford a 25 che è quinto e poi sesto Vaston Villa a 22 quindi diciamo che franno la sesta sono ben 8 punti poi 5 poi 3 poi 2 poi basta a salire insomma cosa c'è da dire c'è da dire che in questo video c'è un livello dei risultati non abbiamo fatto bene come abbiamo fatto nei precedenti però poi alla fine per quanto riguarda i risultati effettivi diciamo che in realtà ci hanno permesso comunque di rimanere tutto sommato primi non con un grande distacco però siamo sempre primi il che alla fine va più che bene calcolando che come dico sempre siamo una squadra neopromossa quindi magari più di tanto si può fa e direi che se primi a novembre e se ci da un bel po' tracendo il momento in cui eravamo se ogni questo video qua per una diciamo settimana e basta o comunque per una giornata e basta direi che va oltre il bene insomma e questo è quanto e niente ciò da deviarti arrivo alle conclusioni come sempre prima di lasciarvi vi ricordo di rimettere barrafare se volete le solite cose ovvero lasciatemi bello mi piace al video se il video vi è piaciuto condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale così potete venire aggiornati su tutti i video che caricherò inerente a questa serie qua ma non solo ovvia ci vediamo poi nel prossimo video nel quale appunto anzi nel prossimo video nel quale appunto inizieremo novembre 2019 via vi aspetto ciao